Buona visione. Allora ragazzi stavolta sarò diretto e voi vi starete chiedendo ma Lele ma perché dici questa frase? Perché è la terza volta che provo a registrare questo video perché venivano troppe cose alla cazzo di cane messe insieme e non si capiva nulla. Quindi ora che ho le idee ben chiare spero forse non lo so forse qualcuno di voi si starà chiedendo il motivo per il quale sono stato assente in questi sei mesi. Ecco ve lo dirò lo giuro appunto vi parlerò di questo motivo partendo da adesso però per capire bene tutta la mia storia bisognerebbe partire dal principio quindi dall'inizio che però è un inizio particolare. Capirete poi il motivo quando raggiungeremo quel video ho già in testa un sacco di progetti che vorrei portarvi un sacco di mie esperienze un sacco di idee insomma di video dove narro quello che penso ma anche dove dico quello che ho passato. Quello che mi è successo che non è tanto sono sono giovanissimo non so se sapete quanti anni ho nel dubbio un giorno ve lo dirò oppure scrivetemi su instagram e mi raccomando seguitemi su instagram vi lascio il link qui in descrizione e anche il nome qui a schermo da forse qui sopra perché vedo che c'è un grande spa ok qui insomma. Sta di fatto che sono successe varie cose appunto vari fatti che vi narrerò però non partirò dal principio ed è questa la cosa bella secondo me perché sarete voi che poi dovrete mettere tutto in ordine. Il prossimo video sarà dove narro un'esperienza di questi sei mesi probabilmente metterò una data un periodo comunque quindi non lo so metterò se mi ricordo la data specifica e molto probabilmente non me le ricorderò le date. Quindi metterò un periodo metterò non lo so ottobre novembre dicembre febbraio insomma dei periodi oppure settembre ottobre 19 così via a scalare fino ad arrivare all'inizio che come ho detto prima è un inizio particolare perché non è la mia nascita ma è un altro inizio. L'inizio di quello che sono di quello che sono diventato di quello che ho costruito per diventare ciò che vorrei essere di quello che sto costruendo anzi quindi questo è soltanto un video introduttivo al percorso che vorrei fare. Ci sono già dei video che sono più o meno inerenti parlano di quello che penso riguardo determinate cose li lascerò perché sono comunque parte della mia vita e del percorso che ho fatto e che sto facendo. Di conseguenza li terrò perché ci tengo a sottolineare e lo ribadirò in tantissimi altri video che ogni momento ogni singola cosa che hai fatto è un tassello in più di quella che è la tua vita. È sempre un passo che ti ha fatto arrivare dove sei adesso e dove sarai un domani e credo sia una cosa fondamentale da capire perché senza ieri non sei e non potrai essere. Quindi nulla ragazzi questo è quello che volevo dirvi quindi è il presente tra virgolette perché poi per come la vedo io il presente non esiste ma in un altro video questo argomento. Dal presente al passato che vi porterà al futuro. Dal passato al presente che vi porterà al futuro o dal futuro al passato che vi porterà al presente. È un concetto strano ok però voglio entrare a prendere questo percorso quindi niente ragazzi spero che appunto il video vi sia piaciuto vi chiedo di seguirmi su Instagram vi lascio il link qui sotto in descrizione oppure qui a schermo il mio nome con il quale potete andare a cercarmi. E quindi niente alla prossima raga. Grazie a tutti.